Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta di Recap della giornata di oggi, mercoledì 15 luglio. Cosa abbiamo avuto che era peraltro stato già previsto nell'analisi del 9 luglio e poi in quella weekly settimanale? Salita. Siamo andati sopra questo massimo qua, che avevo dato un po' di giorni fa appunto, i 12.836. E non ci siamo arrivati soltanto appunto con un interessantissimo gap up, che peraltro crea un altro island reversal, negando il precedente. Inverso. Ma ci arriviamo oltretutto con una spinta fortissima, che poi è digradata un pochino per permettere la chiusura di un quinto t-3, e successivamente, forte di nuovo degli HFT, si è andati a salire. Tra cui, che cosa abbiamo fatto oggi? A parte incassare in quest'area qua il nostro long, quello che avevamo iniziato a comprare qui, che è andato temporaneamente in perda qui, e che abbiamo ricomprato su questo massimo, quindi abbiamo fatto una media tra questo e questo prezzo, e quindi abbiamo fatto un bel guadagno, decisamente un bel guadagno, anche perché avevamo incrementato e moltiplicato per due le size. Successivamente, dopo che ci è scappato a rialzo, abbiamo provato a fare uno short, anche se vi faccio notare che qui abbiamo avuto rossa, verde, rossa, verde, rossa, verde, rossa, rossa, verde, verde, rossa, verde. Un'altra annanza spaventosa, per cui abbiamo chiuso praticamente in pari, e chiuso il discorso. Mi aspettavo che potesse partire qualche cosa di più, per il fatto che qui avevamo già un ottavo t-3, arrivato a 30 barre. E che adesso, se andiamo a prendercele tutte, 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 tutte le barre, ve lo faccio vedere immediatamente, sono 44, arrivando a questo massimo qua. 44 precise. Esatta durata massima di 11 ore per un qualsiasi t-3 anche inverso. Per cui ho lasciato dei punti di domanda, d'accordo? Perché domani bisognerà vedere come si apre. Però, se questo fosse un 3 tempi, 2 e 3, tranquillamente questo può essere unicamente l'ottavo t-3 inverso. Mentre invece l'indice è un pochino più semplice, la scansione temporale, perché arrivati qui, a dopo 22 barre, durata minima di durata del DAX, siamo schizzati su a 37, questo non possiamo andarcelo a prendere, o quasi, ok? Però, in questo caso, propenderei per un quinto t-3, un quinto ciclo giornaliero partito alle 16, peraltro, perché ho sbagliato a scrivere. Corrego soltanto. E poi ci spostiamo su Fuzzimil. Quindi, non solo siamo andati al minimo del target dato, ma siamo andati anche ben oltre. Altra notazione da fare. Siamo andati in Golden Cross e siamo sopra la Cuma. Anche se, in questo caso, guardate un po' qua, abbiamo una bella divergenza di inversione ribassista. Questa sapete sempre che è l'ultima delle cose che vado a verificare, però è giusto che ve la segnali. Per cui abbiamo iniziato a fare un po' di discesa. Anche perché, ricordiamoci che un t-inverso dura in media 8 t-3, quindi sono già molto avanti come tempo. Si può arrivare anche a 11. E in più, faccio anche un'altra cosa, vi faccio vedere che questo passa a rosso, perché purtroppo è diventato ribassista. E quindi, si è vincolato completamente per tutta la sua durata a rialzo di indice e ribasso di inverso, appunto. Quindi, se questo non sarà l'ultimo t-3 inverso, proseguiremo a salire. Molto semplice, come vedete, per certe cose la cipica è evoluta. Passiamo al Fuzzimib. Sul Fuzzimib abbiamo una scansione temporale diversa, perché, a meno che non siano state fatte cose strane, qui siamo arrivati a 21 bar, e il Fuzzimib non dura così poco, per cui l'ho portato a 39, e ci sta serenamente. Da qui, quarto t-3, lineare proprio come partenza notevole, si poteva andare a prendere con molto piacere. Successivamente, stiamo andando in chiusura, perché qui è troppo presto, di nuovo, 20 bar. E qui, ci vuole ancora un pochino di tempo, perché vada a scendere, che potrebbe andare già sotto i 20.203, per andare anche, peraltro, in chiusura di t-1. Stessa riflessione che dall'altra parte, il t-1 incombe, qui siamo solo al quarto t-3, sul DAX siamo al quinto t-3. Se anche provassi a fare ancora una salita per arrivare verso i massimi, entrare in divergenza e poi scendere, comunque noi andremo ad aggiungere al chip short lasciato in overnight, un secondo chip e ci porteremo a casa quello che dobbiamo portarci a casa. Qui più semplice, anche qui, avremo chiuso, qui abbiamo un massimo a 20.348, 20.351 e questo massimo a 20.361, quindi più alto di questi due. Quindi, avremo chiuso, non soltanto l'ottavo t-3 inverso, ma anche il t settimanale inverso in durata media, possibile. Lo vedremo nel proseguo della serata per quanto riguarda il future e della giornata di domani per quanto riguarda il resto. Vi faccio notare che anche in questo caso, da giallo, qui, passiamo a rosso e passiamo a meno perché il nostro inverso si è vincolato per tutta la durata che vorrà avere al ribasso e quindi l'indice può ancora eventualmente vedere se salire se andrà a violare proprio questo swing inverso qua che fa da swing assoluto, anzi swing di massimo, scusate, non di inverso, swing di massimo che è una swing di assoluto. Anche qui golden cross in essere. Anche qui sopra la media mobile. Ultimissima cosa. Vi faccio notare che ci siamo avvicinati talmente tanto a questo massimo a 20.399 perché abbiamo fatto 20.361 abbiamo fatto 38 tic in meno che questo questo t più 2 inverso che è il primo del t più 3 inverso a partito da questo massimo è già un neutro e se si andrà appunto sopra questo massimo qua diventerà ribassista e vincolerà anche il successivo t più 2 inverso al ribasso ovvero spingerà ancora su il nostro indice Fuzzimib peraltro come detto questo robo qua lo coloro di azzurro perché siamo fuori tempo massimo oggi siamo arrivati alla 44esima barra a partire da qui non è possibile per cui da qui è partito o qualche cosa di nuovo grosso e qui appunto come vi dicevo ipotesi B è ancora è partito un nuovo trimestrale che ha fatto un 1 2 e 3 tempi per partire oppure questo dovrà tornare giù a un certo punto anche per far partire il secondo t più 1 inverso che richiede perlomeno un t inverso e alzista e quindi tutto torna se non comprendete appieno quanto vi sto raccontando il suggerimento ovviamente è quello di formarsi e quindi di non fermarsi anche perché come avete visto anche oggi abbiamo portato a casa un'altra valida operazione senza scoraggiarci per la deviazione che c'è stata rispetto a quello che era l'aspettativa l'aviazione che poi però ci ha portato esattamente a target come detto nelle analisi da domenica in avanti grazie per l'ascolto e se tutto non è andato bene mettete un bel like sottoscrivete il canale intanto è gratuito cliccate sulla campanellina perché così potete sempre sapere quando esce una nuova analisi buona serata a tutti cliccate